E' stata una delle stragi stradali sul territorio che ha fatto più discutere negli ultimi anni. Era la domenica del 9 giugno 2019 quando una Mazda X3 lanciata a folle velocità in discesa andò fuori controllo all'altezza dell'abitato di Columbarone e si schiantò contro una Fiat 600 che proveniva dalla direzione opposta. Un incidente che procurò tre morti, tutti di Pesero. I coniugi sessantenni Roberto Carosio e Auriella Bonerba che rientravano da un pranzo domenicale e la 33enne Silvia Lucarelli, giovane mamma alla guida della Mazda fuori controllo. Due anni e mezzo dopo è arrivata ieri una sentenza di condanna del Tribunale per l'unico sopravvissuto di quella tragedia. Il pesarese Marco Razzietti, 33 anni, condannato con processo in rito abbreviato a tre anni e quattro mesi per omicidio colposo. O Razzietti che nell'incidente riportò ferite non gravi, ma alla base dell'impianto accusatorio il fatto che lo stesso Razzietti avrebbe tirato il freno a mano cooperando nella determinazione dell'omicidio. Una cooperazione a quella di Silvia che secondo l'accusa dell'epoca avrebbe guidato l'auto in stato di alterazione fisica per imperizia e negligenza. Un comportamento letalmente dissennato tale da far affrontare a 130 all'ora una curva in una zona con limite dei 50 km orari. All'epoca dei fatti venne inizialmente accusato Razzietti di essere alla guida, una tesi poi contestata dalla difesa e di fatto smentita da telecamere di videosorveglianza che appurarono che al contrario alla guida del mezzo ci fosse Silvia Lucarelli. Il Tribunale ha disposto anche il pagamento di una provvisionale di risarcimento di 100.000 euro da parte di Razzietti alla figlia rimasta orfana della mamma Silvia e di 120.000 euro ai genitori della stessa Lucarelli.